Sono Tommaso, vengo da Teramo, Abruzzo e sono studente della facoltà di giurisprudenza nell'Università degli Studi di Roma 3. Sono venuto a conoscenza della scuola di politiche tramite i social network, mediante anche il profilo Instagram del presidente Letta. E diciamo che il mio obiettivo principale per cui intendo candidarmi per la prossima edizione è sicuramente la voglia di conoscere i meccanismi della politica, i fondamenti che la contraddistinguono perché credo che capire la politica, capire i segreti, possa assolvere lo scopo di redimere la funzione e la posizione della politica in questo Paese che sicuramente in questo momento non vede di buon occhio una delle forme più alte dell'intelletto umano. Dunque diciamo che il mio obiettivo principale è questo, capire la politica, capire il passato per comprendere come agire nel futuro.